Ordinabile in Italia la nuova AMI 100% Electric, la soluzione di mobilità urbana Citroen innovativa e accessibile a tutti a partire dai 14 anni. Offre 75 km di autonomia e la sua batteria si ricarica in appena 3 ore dalla presa domestica. La gamma italiana è composta da 7 versioni, 4 e-kit di personalizzazione in altrettanti colori che il cliente può installare in stile do-it-yourself. Per un livello di personalizzazione ancora più elevato sono proposti inoltre due pack che aggiungono ulteriori elementi per uno stile inconfondibile, uno più sportivo nel colore arancione e l'altro più elegante nei toni dei grigi e del nero. Il percorso cliente di AMI 100% Electric dalla scoperta alla configurazione e fino all'acquisto è totalmente digitale e sono disponibili offerte con acquisto immediato oppure con formule leasing a la car, personalizzabili e particolarmente competitive, in grado di rispondere alle esigenze di utilizzo di tutti. Oggetto anticonformista di mobilità urbana, AMI 100% Electric è protagonista in Italia dell'esclusivo servizio di car sharing condominiale lanciato da Citroen Italia insieme a Free to Move, in anteprima per The Nest, nuova residenza prestigiosa nel cuore di Milano.